Il buffone quotidiano, un recovery ciao, articoli da sconnessi della stampa di regime, recovery e costituzione ciao, diritti dei cittadini ciao, hanno votato sì al referendum, sparan pirrata, la resa dei conti, il conto è in piano la cabina di regime, Travaglio, il buffone quotidiano, la stampa di regime, ha votato come Renzi, come tutti e adesso non può dire niente, è un quotidiano di regime, boicottiamo, non mai più comprare il giornale di Travaglio che va a andare a vendere il biglietto a San Siro, complice della realizzazione del piano della P2 di Ricciogena e dell'administrazione parlamentare, ma c'è ricorso al Tar del Lazio, si farà un nuovo referendum e votiamo no a Travaglio, a regime, Travaglio che si becca 10 mila euro al mese, si beccherà, ma andiamogli a casa, questi buffoni quotidiani, questi, questi fautori del programma della P2, della massoneria, questi, questi, facciamo un nuovo 25 prime a cacciare il culo a Travaglio, vai a vendere il biglietto a San Siro, sei un buffone, Travaglio, buffone.